Al via oggi gli esami di maturità, un maxi colloquio orale che vede impegnati gli studenti giunti al termine di quest'anno dove a farla da patrona purtroppo è stata la pandemia. Noi siamo all'Istituto Galizia di Nocera Inferiore dove abbiamo incontrato docenti e studenti per farci raccontare anche le loro emozioni. Auguri, possiamo farti una domanda, come è andata innanzitutto, quali sono le tue emozioni? Ah, benissimo, un po' emozionata però è andata, spero comunque di prendere un bel voto. Ci racconti un po' come è andato questo anno, se c'è qualche rimpianto particolare a causa della pandemia, su come è trascorso il quinto anno? Magari l'unico rimpianto è stato aver perso il quarto anno e non aver potuto frequentare la scuola, però per il resto anche in DAD comunque siamo riusciti a creare quel senso di legame che comunque ci unisce perché è questo poi che ci distingue, perché riusciamo comunque ad essere noi stessi anche attraverso uno schermo che indubbiamente sarebbe stato bellissimo frequentare la scuola. Poi io il quinto anno ho deciso di venire, non sono voluta restare in DAD perché avevo proprio bisogno di rivedere i professori, le aule, di camminare anche al mattino, di comunque parlare con il personale della scuola. Cosa c'è adesso nel tuo futuro? Io vorrei fare la giornalista. Sei appena uscito, termina una parte importante della tua vita, cosa senti in questo momento, cosa provi? Ma forte emozione, da poco sono uscito, è stata comunque un'esperienza fantastica. Questi cinque anni comunque sono stati un percorso lungo, negli ultimi due anni sono stato anche rappresentante dell'istituto e per me è stato un onore, un piacere e ringrazio la preside, la vicepreside e tutti quanti, tutti i professori. C'è stato qualche rimpianto visto la pandemia in questo ultimo anno? C'è qualcosa che magari avresti voluto fare e non hai potuto fare da studente del quinto anno? Ma soprattutto per l'esperienza da rappresentante che comunque mi ha bloccato nell'ultimo anno, non c'è stata possibilità comunque di fare l'assemblea in presenza. Si sono state fatte solo a distanza e questa comunque è stata una perdita pesante per la nostra scuola. Ma nonostante ciò comunque siamo una grande famiglia, una famiglia unita e diciamo siamo comunque orgogliosi di far parte del Galizia. Presidente, com'è cambiato quest'anno l'esame di Stato? Allora quest'anno rispetto all'anno scorso, in più c'è un colloquio come già l'anno scorso c'era, però in più c'è un curriculum dello studente dove in effetti si mette a disposizione della commissione, si mettono tutti i dati che riguardano il percorso sia scolastico, sia le certificazioni, sia diciamo le esperienze significative e le competenze acquisite anche in ambienti non formali dello studente. Io personalmente lo trovo invece molto più completo e non più nozionistico, ma invece si attestano le competenze acquisite dallo studente ed eventualmente poi gli sbocchi del futuro che vorrà scegliere. I ragazzi hanno risentito del periodo di pandemia, non è la stessa cosa che frequentare a scuola, sicuramente ci sono state delle mancanze di cui siamo sicuramente per il fatto che ci sia stato il Covid ed attribuire al Covid potevamo fare di più senz'altro, però abbiamo fatto quello che era possibile, però i ragazzi si sono impegnati, hanno avvertito questo senso del dovere di trovarsi preparati per gli esami. Sono molto bravi e non lo dico apposta, dico che i nostri ragazzi sono bravi e sicuramente se profondano l'impegno che hanno dimostrato di profondere in questa scuola daranno i loro risultati e quindi arriveranno a traguardi alti. Auguri ragazzi, auguri alle famiglie, a tutti.